chiamasi uscita della palta cosa c'è, c'è, cosa c'è c'è, 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 c'è un po' azzisca c'è, c'è un po' Grazie a tutti. In fondo lì vai piano quando usciamo. Stai attento solo all'uscita che stupida. Stai sulla destra. Stai tutto di là ma vai piano vieni a prenderlo. Vieni su masche vieni su bravo mettiti lì. Mettiti a metà perché tanto lì gli scappa via il davanti sicuro appena le mette giù il davanti scende giù perché farla così figurati. Così bravo. Chi è sceso di qua? Fai il check sicuro. Perché non l'hai fatto a sinistra? No è più bello a destra. Per chi va è va bene a destra. Sì. 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 Sì.